L'amore ha sconfitto l'odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha schiacciato le tenebre. Papa Francesco lo ha ripetuto con forza, auspicando che questo annuncio possa raggiungere il cuore di tutti. Gesù Cristo è risorto, indicando la via della vita e della felicità, quella dell'umiltà, quella che permette di vedere le cose dal basso in alto, senza orgoglio. Nella Pasqua di Ressurrezione il Pontifici ha celebrato la Messa in Piazza San Pietro, gremita di fedeli nonostante la pioggia abbattente, per poi pronunciare il messaggio pasquale e impartire la benedizione urbi e torbi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana. In questo giorno di festa e di gioia, Papa Bergoglio non ha dimenticato i tanti scenari di conflitto che insanguinano il mondo, auspicando la conversione dei cuori, il germogliare di un'altra umanità. Pace è stata chiesta per la Siria e l'Iraq perché cessa il fragore delle armi e la comunità internazionale non rimanga inerte di fronte a questa immensa tragedia umanitaria. Pace è per la Terra Santa, la Libia, lo Yemen. Una preghiera incessante è stata levata per l'Africa, in special modo per la Nigeria, per il Sud Sudan e per varie regioni del Sudan e della Repubblica Democratica del Congo, così come per il Kenya, duramente colpito nei giorni scorsi dalla furia integralista. Pace e libertà è stata chiesta per le vittime dei trafficanti di droga, tante volte alleati con i poteri che dovrebbero invece difendere la pace e l'armonia nella famiglia umana. Pace per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi. Dal Signore risorto, oggi imploriamo la grazia di non cedere all'orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace. A Gesù Vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli perseguitati a causa del suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Grazie. 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 Grazie.